buongiorno a tutti da netmotive dopo un po di attesa è arrivato finalmente anche il momento di recensire l'inmotion v12 il primo veicolo demo ci è stato inviato da in motion alcuni mesi fa abbiamo deciso di attendere e non affrettarci nel trarre delle conclusioni a causa delle ultime sorprese registrate nei veicoli di prima produzione inviati da tutti i produttori la rincorsa all'emissione nel mercato di nuovi modelli ha spinto purtroppo tutti i brand a rilasciare nuovi veicoli a nostro parere non sufficientemente testati ed affidabili motivo per cui consigliamo a chiunque non fosse perfettamente consapevole e disposto a fare da tester di attendere l'uscita dei modelli che vengono chiamati notoriamente batch successivi quello che vedete è già un secondo batch nella versione v12 tradizionale in arrivo anche i v12 ht che dovrebbero garantire una spinta maggiore in spunto e accelerazione ma una velocità limitata a 60 chilometri orari la versione ht sarà distribuita con una gomma off road ed un motore con potenza nominale di 2800 watt ma partiamo subito dalle soluzioni tecniche adottate su questo in motion v12 è il primo veicolo della gamma in motion dotato di tecnologia 100 volt ha una potenza motore nominale di 2500 watt un pneumatico da 16 pollici per 3.0 dispone di pacchi batterie contenenti ben 80 celle per un totale di 1750 watt ora che dovrebbero garantire fino a un massimo di circa 130 chilometri in condizioni di guida sostenute la velocità massima raggiungibile ma prevista per le sole aree private e per scopi esclusivamente sportivi e di ben 70 chilometri orari uno dei ragazzi che si impegna nei nostri collaudi si è lanciato con il veicolo arrivando a toccare 68 chilometri orari per eseguire un test effettivamente il veicolo è in grado di sopportare bene lo stress in queste condizioni che però avvicinandosi chiaramente alle prestazioni di un motociclo reputo siano fuori misura per un monowheel se non magari per uso strettamente ludico sportivo estremo il peso complessivo del v12 è di circa 28 chilogrammi ora partiamo dalle sensazioni di primo impatto dalle prime foto mi era sembrato un po bruttino è vero può generare qualche perplessità ma dal vivo cambia proprio tutto una volta fatta l'abitudine al contrasto di forme circolari e squadrate devo dirvi che risulta gradevole e complessivamente anche abbastanza armonioso mi attira molto il suo stile dark batman l'inconsueta scelta nelle forme è giustificata dal tentativo di trasferire maggior robustezza al veicolo infatti dal punto di vista costruttivo è davvero vicino alla perfezione trasmette davvero un'elevata sensazione di robustezza e sicurezza più di qualsiasi monowheel che abbia avuto tra le mani fino ad oggi credo che questa volta in motion con l'uscita di questo veicolo abbia strizzato volontariamente l'occhio anche a gran parte dell'utenza più golosa di prestazioni garantendo però l'indiscutibile maggior qualità costruttiva che solo in motion ci ha abituato da sempre ad apprezzare sui monowheel come vedete sono state applicate gomme plastiche antiurto in tutti i punti critici l'utilizzo di inserti di gomma protettivi sono davvero un'idea vincente gli utilizzatori verranno infatti ripagati da un livello di protezione davvero elevato indipendentemente dall'entità delle eventuali cadute e dal contesto in cui queste potrebbero verificarsi questo oltretutto espone molto meno al veicolo ai danni che riguardano le parti interne soprattutto i pacchi batterie ultimamente abbiamo assistito a casi di incendio probabilmente dovuti anche al danneggiamento dei pacchi batterie che si possono provocare durante le cadute più gravi anche il display pur trovandosi a filo della scocca e non protetto da una griglia è posizionato su un angolo di copertura tra la maniglia e lo spigolo del veicolo per cui non risulta direttamente esposto ad impatti diretti di piatto sull'asfalto non possiamo ovviamente sapere quanto lo schermo potrebbe resistere all'impatto con un oggetto spigoloso ma speriamo di non doverlo mai scoprire il veicolo è dotato di un impianto luci strutturato con quattro led anteriori nel complesso leggermente meno efficace potente di quello dell'emotion 11 ma ampio e ben configurabile risulta essere più che sufficiente nell'utilizzo delle ore notturne lo sportellino in gomma posteriore cela e protegge la porta di ricarica rapida una presa usb e finalmente anche una porta type c è dotato del classico e funzionale tasto lift sensor di motion per il blocco temporaneo del motore e di una maniglia trolley la maniglia trolley è forse l'unico punto debole che ho trovato in questo veicolo robusta ma poco precisa nelle spinte laterali a causa della scarsa curvatura complessivamente è un po' deludente ma è anche vero che chi sceglierà un veicolo così sportivo non lo valuterà per le sue doti urbane una curiosità che voglio segnalare e che più volte mi sono pinzato il dito tra trolley maniglia quindi vi consiglio di prestare molta attenzione il veicolo arriva infatti con un etichetta volta a segnalare questo rischio in dotazione anche questa volta un semplice ma utile funzionale cavalletto estraibile non troppo invasivo sempre piacevolmente minimale ma ancora più stabile di quello del v11 in qualche altra recensione ho sentito dire che le pedaline sono le classiche da sempre montate da in motion c'è un piccolo errore somigliano ma sono diverse da quelle del v10f e dal v8f dal quale ereditano soltanto la sagoma sono infatti più spesse come quelle del v11 e dotate di un grip tape ancora leggermente migliorato rispetto a quest'ultimo potrete eventualmente un secondo momento applicare le pedane a nido d'ape prodotte da in motion anche per il v11 è molto importante far notare che il primo monowheel ad avere realmente un set di pedane con attacco regolabile in tre posizioni in modo molto semplice e veloce torniamo momentaneamente a parlare del display magari non indispensabile forse un po azzardata la scelta di uno schermo touch a colori sarebbe stato sufficiente un display monocromatico anche meno definito e più essenziale come quello visto nello sherman ma bisogna constatare che la possibilità di poter avere accesso alle principali informazioni di diagnosi e di primaria configurazione è una comodità notevole apprezzabile veramente solo quando si ha l'opportunità di averlo a disposizione l'obiettivo è quello di consentire di tenere facilmente sotto controllo lo stato del veicolo durante la guida e consentirci di cambiare le configurazioni senza doversi fermare per rimuovere l'abbigliamento prendere lo smartphone collegarsi riconfigurare sistemare lo smartphone e rimettersi i guanti per partire e senza alcun dubbio una grandissima comodità ma adesso andiamo a vedere come si comporta su strada è un veicolo molto pesante ma il motore è poderoso una volta messo in marcia diventa magicamente leggero il motore veramente molto potente fluido rispetto a ruote più piccole e leggere ha una grande inerzia ma confrontandolo con i top di gamma presenti sul mercato è uno dei più vivaci una volta lanciato in velocità risulta estremamente progressivo nelle variazioni di marcia la cosa che stupisce maggiormente è che raggiunta l'andatura desiderata non sarà necessario continuare a forzare sulle pedane l'estrema potenza del motore garantisce il mantenimento di una velocità di crociera elevata con estrema semplicità e comodità senza dover continuare a premere troppo sulle pedaline o avanzare eccessivamente il baricentro così come risulta elevata la spinta del motore in accelerazione risulta adeguato anche lo spazio di frenata la sensazione di stabilità ad elevate velocità è uno dei punti forti di questo veicolo la posizione di guida è eccellente il veicolo è stretto e super creativo nei cambi di direzione in curva e meraviglioso mi ha trasmesso delle emozioni uniche per la forma delle mie gambe la posizione è comoda e sicura i cuscinetti non sono forse bellissimi a vista ma sono disposti nei punti giusti è una scelta soggettiva ma nel tempo ho scoperto di non essere un grande amante dei power pad amo infatti sentirmi libero da impedimenti ed apprezzo soprattutto in un lungo percorso la possibilità di potermi spostare spesso tra le pance del monowheel e su questo veicolo riesco a farlo al meglio non troverete spigoli e fastidiosi dislivelli durante i vostri spostamenti il v12 non è provvisto di un sistema di ammortizzazione meccanico specifico per lo smorzamento dell'asperità del terreno punta esclusivamente sulla presenza di un pneumatico specifico con spalla molto abbondante scelto saggiamente per assorbire le imperfezioni dell'asfalto sappiamo che esistono opinioni diverse e controverse sulla presenza di un ammortizzatore e non è questa la sede giusta per disquisire su questo argomento anche se sempre più rider dopo aver provato vari sistemi di ammortizzazione soprattutto per uso estremo sportivo hanno lecitamente scelto di farne a meno apprezzando maggiormente la possibilità di percepire meglio quello che trasmette il terreno a favore di una guida sportiva più diretta e precisa tra le mie conoscenze molti rider che hanno abbandonato l'utilizzo di una ruota ammortizzata per tornare a utilizzare una ruota non ammortizzata in condizioni sportivo estreme ovviamente nel caso del v12 possiamo dire che nella modalità tuffo dai gradini la ruota non può reagire come un veicolo dotato di un sistema di ammortizzazione specifico ma grazie alla scelta giusta del pneumatico e alla regolazione della pressione risulta veramente confortevole anche in presenza di numerose asperità e soprattutto nell'uso off-road estremo trovo infatti che tra le ruote sia comunque il veicolo più ammortizzato nella lista dei monowheel presenti sul mercato non dotati di un sistema di ammortizzazione meccanico specifico su asfalto piano e liscio il veicolo risulta incredibilmente reattivo e piacevole da guidare così come lo è sullo sterrato veloce nonostante la stazza e il peso molto elevato il posizionamento delle pedane alte e regolabili viene in aiuto anche nei cambi di direzione più rapidi e improvvisi credo quindi di poter tranquillamente consigliare questa novità di motion a tutti gli appassionati di monowheel e soprattutto a quelli più esigenti ovviamente non possiamo indicarlo ad un guidatore che approccia per la prima volta al mondo dei monowheel principalmente per la questione del peso e dell'inerzia a meno che non partiate con l'intenzione imminente di affrontare lunghi viaggi non lo posso consigliare come unica ruota se la vostra intenzione è quella di usarla principalmente per spostamenti urbani e brevissimi tragitti sarebbe sprecato e il suo peso potrebbe risultare eccessivo se dovete sollevarlo spesso durante le vostre attività per tutti gli altri contesti viaggi ed uso sportivo è invece promosso a pieni voti per l'esclusività di alcune sue caratteristiche il piacere di guida che mi ha trasmesso non potrò fare a meno di tenere un v12 per me credo realmente che questa volta in motion abbia voluto dare una risposta concreta accontentando le principali necessità dei rider anche quelli più esigenti in termini di potenza motore e prestazioni ma anche dare una risposta definitiva al problema della resistenza alle sollecitazioni e dagli impatti ai quali sono soggetti monowheel utilizzati sempre più per uso estremo che lo appreziate no esteticamente dopo esser saliti aver percorso qualche chilometro su questo v12 ve ne innamorerete sicuramente adesso vi saluto e vi ringrazio per aver seguito anche questa recensione vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto a seguirci ed a contattarci dal sito ufficiale net motive e sui social incluso il gruppo facebook club monowheel italia un buon monowheel a tutti